Quarta posizione con una somma totale di 32,411, si, oh perdonami, sorry, chiamiamo l'assessore Gianni Berrino, c'è la confusione in questi fogli che voi non avete idea, mi perdoni senatore mi perdoni, quarta posizione per Giuseppe Iaconis e Fein, con una somma di 32,412, 107, terza posizione per Iris Prattereani, Envifo e Nuova Diva! Somma 32,235, seconda posizione per Adamo Francesca e Fein, Faro per Casper! E vince il Varo Lombardice, 2023, con una somma di 32,163, Federico Tozzi, fasto da e si porta a casa la C100! Grazie! 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 Grazie!